E' un video eh. Dov'è che siamo? A? Siamo a Germania. A Popolo. Hai visto la caduta in portata? Ma da quanto tempo è là? Che promette? Sì, sì, dico da 5 minuti. No, però stava sbagliato. Un momento alucinante. Ancora non è il video. Dai Omar! No, ti consiglio di dentro con lo stalo. No, sì, vale. Non ce l'ha fatto. No, non ce l'ha fatto. Oh, ma è il bastoncino? No, no, io non ce l'ho fatto. No, no, io non ce l'ho fatto. E' brutto, con i sali riuscissero. Mi fa troppo male da fare. Ma dove sono i miei? Beppe, ma questi bastoncini mi stai portando. E' Ye, mi vi c'e Temer. Ma poi ora è Napoli? Segure la facude. E' ti trinchi riuscita. Land Ife diftare è lì. Chukia riuscita rebeldia. Coi! riscata del giro? Sì, sì, sì. Sì, sì.